Musica Buongiorno e benvenuti a Sette in Punto. Questa mattina parliamo della relazione tra banche e clienti, un tema molto caldo in questo territorio ma non ci sono solo le conseguenze del crack dell'ex Banca Popolare di Vicenza o di Veneto Banca perché ci sono tanti aspetti che vanno sviluppati, vanno evidenziati nella sottoscrizione di contratti tra appunto il cliente, il cittadino e la banca. Tanti elementi che ancora vanno evidenziati e per parlare di queste criticità questa mattina abbiamo due avvocati che sono specializzati in questo tipo di tematiche. Iniziamo con l'aspetto civilista di questo ramo della contrattualistica con l'avvocato Serena Pomaro. Buongiorno e benvenuta. Ci siamo visti l'anno scorso, due anni fa ora non ricordo e c'era il tema dell'usura, dell'anatocismo ancora esercitati e voi in qualità di avvocati lo evidenziate dalle banche. Oggi, vorrebbe da dire, ma come non è vietato per leggi? Innanzitutto, che cosa si intende per usura e per anatocismo? Queste parole che magari possono essere facili ma al contempo anche difficili da comprendere nell'applicazione di un contratto. L'usura è disciplinata, trova una disciplina specifica sia nel codice penale che è anche in una legge che risale ancora al 96, la legge 108 del 96 e anche nel codice civile comunque laddove all'articolo 1815 comunque è stabilito che qualora siano convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Cosa si intende per interesse usurario? Allora, la disciplina attuale prevede che qualora vengono stabiliti degli interessi laddove nei rapporti, voglio dire naturalmente in essere con un istituto di credito siano superiori alla soglia di usura che è prefissata nei decreti ministeriali che vengono pubblicati in gazzetta ufficiale questi interessi appunto superiore ad una determinata soglia prevista naturalmente possiamo quantificarla? Quindi è quantificata ovviamente trimestralmente di volta in volta però più o meno siamo a che livelli? Sopra il 10%? Il 5%? Tanto per dare un parametro di riferimento? Ma non è possibile, bisognerebbe vedere il tipo di categoria di operazione che è stata posta in essere o contratualizzata sono diversi a seconda che si tratta di mutui Oltre il 12% credo che sia un'usura evidente Ripeto, se stiamo parlando di un mutuo piuttosto che di un'apertura di credito conto corrente oppure di un leasing o di un altro tipo di operazione bancaria il tasso soglia varia a seconda dell'operazione che abbiamo concluso con la banca Quindi fare attenzione, leggere i propri documenti e verificare che ci si trovi nella legalità Senza la corrispondenza del tasso che è stato concordato con l'istituto di credito nella nostra operazione bancaria che siamo privati oppure che si tratti di azienda ovviamente e che sia entro il tasso soglia Quando fuoriesce dal tasso soglia stiamo parlando di una usura originaria che è diversa dall'usura sopravvenuta cioè da quella che potrebbe essere applicata successivamente in corso di rapporto Per mancanza magari di pagamenti di verità? No, per differente applicazione delle clausole magari in via unilaterale da parte dell'istituto di credito oppure perché comunque il tasso originariamente previsto nel contratto è divenuto usurario ma perché sono cambiati i tassi successivamente come indicati negli decreti ministeriali E come ci si difende da tutto questo? Perché non è facile, perché lei ci sta descrivendo una situazione estremamente volatile che cambia da situazione a situazione, da tipo di contratto a tipo di contratto quindi non è che c'è un parametro, io magari ho semplificato banalmente c'è un tetto, sopra quello è usura, sotto quello è lecito Quindi bisogna mettere insieme una serie di variabili Naturalmente Non si va in banca con l'avvocato Non si va in banca con l'avvocato ma se un cliente si accorge quindi di qualche anomalia di questo genere beh ovviamente dovrebbe richiamare la banca a rispetto del principio della buona fede contratuale e quindi in via stragiudiziale vedere se riesce a comunque concordare con la banca un rientro del tasso Questo prima di adire le vie giudiziarie ovviamente poi rimane sempre comunque la via giudiziaria e quindi eventualmente instaurare un'azione nei confronti dell'istituto di credito Diverso è il caso in cui invece un cliente si trovi in debito nei confronti della banca ovviamente che è la situazione purtroppo abbastanza frequente in questo momento sia che si parli di un privato che magari è inarretrato con le rate di mutuo piuttosto che ha uno scoperto di fido del conto corrente sia per quanto riguarda le aziende che sono molto colpite in questo momento proprio a causa della crisi e quindi della illiquidità spesso e volentieri frequenti in cui si trovano e che naturalmente possono trovarsi nella difficoltà di pagare puntualmente una rata di mutuo di un mutuo che è servito per ristrutturare un capannone piuttosto che un qualsiasi finanziamento come anche nel caso di un debito derivante naturalmente da un rosso chiamiamolo così di conto corrente laddove in virtù di un'apertura di credito piuttosto che di un anticipo fatture o di qualche altro genere di rapporto si trovi ad avere appunto una situazione di sofferenza allora che rimedi ci sono? beh innanzitutto ci è da porsi il problema saggiamente di verificare se quella sofferenza effettivamente corrisponde all'esatto rapporto dare avere con la banca nel senso che quindi potrebbe non essere tale un debito di 10 potrebbe essere di 8 perché? perché magari in corso di rapporto non sono state applicate proprio le clausole contrattuali, contrattualizzate inizialmente ma la banca ha applicato magari qualche variazione e quindi c'è da andare ad analizzare se la variazione ma la banca può applicare queste variazioni senza comunicarlo al cliente? direi che nella quasi generalità dei contratti l'istituto di credito si cautela prevedendo e iscrivendo dentro al contratto la clausola che prevede la modifica unilaterale delle condizioni quindi è un consenso preventivo e anticipato che il cliente dà alla banca alla modifica unilaterale certo la modifica unilaterale non può essere to cure esercitata deve essere esercitata con congolo preavviso con una comunicazione comunque che la banca svolge nei confronti e si può impugnare qualora non sia stata esercitata legittimamente non va dimenticato che comunque secondo l'articolo 118 del testo unico bancario le modifiche possono essere applicate ai contratti a tempo indeterminato come rapporto di conto corrente senza alcuna limitazione e ovviamente nel rispetto della disciplina vigente quindi con una comunicazione mentre invece le modifiche unilaterali non potrebbero essere applicate comunque ai contratti a tempo determinato come i mutui per esempio qualora riguardino esclusivamente i tassi poi l'articolo 118 fa anche un distingo tra consumatore e microimpresa e prevede che soltanto alle grandi imprese o medie imprese e ai professionisti possa essere applicato comunque anche la modifica del tasso quindi diciamo che la disciplina è abbastanza complessa abbastanza corposa quando si parla di anatocismo invece è una parola ancora più ostica l'anatocismo invece è diciamo così disciplinato dall'articolo 1283 del codice civile e stabilisce e diciamo consiste nella capitalizzazione degli interessi quindi in altri termini gli interessi maturati su un capitale dato a prestito si sommano al capitale stesso e conseguentemente si accresce questo capitale costituendo la base per il calcolo di nuovi interessi come l'usura illegale nel termine più non è proprio usura no 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 è proprio la capitalizzazione che avviene trimestralmente degli interessi ora diciamo che l'anatocismo ha avuto come dire varie ha visto il succedersi di varie interpretazioni normative interpretazioni anzi giurisprudenziali chiedo scusa da parte della Cassazione e anche sono state introdotte delle importanti discipline normative sul punto a favore del cliente a maggiore tutela della clientela naturalmente si è partiti nel 99 quando la Cassazione ha dato un colpo di coda alla prassi bancaria di introdurre l'uso negoziale cosiddetto di applicare l'anatocismo to cure a tutti i rapporti nel senso che la clausola anatocistica veniva applicata ugualmente anche se non sottoscritta dal cliente invece adesso ci vuole l'adesione io devo essere consapevole da allora da un decreto legislativo del 2000 è necessaria la sottoscrizione poi ci sono state ovviamente varie evoluzioni giurisprudenziali anche normative per poi arrivare all'ultima alla legge di stabilità del 2014 e poi anche ad una successivamente altre introduzioni del 2016 la storia bancaria e delle relazioni cliente-banca ci insegna che più clausole che possono risultare vessatorie si sottoscrivono più c'è una disponibilità se vogliamo da parte della banca perché eh purtroppo questo questo fa parte del gioco bancario fa parte del gioco delle parti come fare appunto a essere consapevoli di non incappare in qualcosa che si può rivelare un boomerang cioè lei prima citava le rate dei mutui citava il rientro dei fidi che è un elemento anche nel caso del crack della popolare di Vicenza che è un po' al di là di aver perso le azioni c'è anche chi ha l'ansia appunto di questi fidi che non si sa bene eh dove siano come vengano contabilizzati come come fare per avere una certa tranquillità della propria eh attività d'impresa della proprio conto corrente relazioni alle banche leggendo bene questi contratti leggendo bene i contratti di quello che si sottoscrive ovviamente rivolgendosi anche a un professionista che può essere anche ovviamente un avvocato esperto nel settore piuttosto che anche un bravo commercialista e poi ovviamente si sa che comunque purtroppo la nostra l'esistenza stessa di un'azienda come anche la vita di un privato non può purtroppo prescindere da un rapporto bancario e lo sappiamo perché anche per l'accredito di uno stipendio è necessario comunque avere un conto corrente e quindi a qualcosa ma dipende dalla nostra ignoranza in materia perché comunque la banca fa il proprio interesse e non è un ente benefico no? quindi come possiamo tutelarci? che credo che il primo passaggio di tutela sia leggere bene quello che sottoscriviamo certamente oltre poi avere anche una lungiviranza del proprio destino privato e aziendale per evitare di incappare in una situazione che poi ti strozza senza altro che consigli appunto lei ci può dare proprio preventivi e poi di azione risarcitoria nel momento in cui nella fase pre diciamo così sottoscrizione cercare di essere di leggere bene quello che si va a sottoscrivere e anche di averne chiaro il contenuto quindi molte volte magari i contratti sono scritti in piccolo hanno moltissime clausole sono scritte un po' in piccolo questo non la toglie naturalmente sulla correttezza alla validità ci mancherebbe però magari soffermarci un po' di più su tutte le numerose clausole anche rivolgersi a un consulente rivolgersi a un consulente perché magari può essere un po' diciamo così incomprensibile quello che andiamo a sottoscrivere laddove si parla magari con terminologie anche abbastanza specifiche di indici piuttosto che di commissioni piuttosto che di altre non lo so spese che vengono caricate ovviamente nel rapporto e laddove invece ci sia una criticità o quantomeno ci sia si sia naturalmente verificata un'anomalia per cui tornare indietro non è più possibile anche questo ovviamente dipende anche dai rapporti tra cliente e banca diciamo che ovviamente non si può in molti casi si deve sfociare in una in un contenzioso purtroppo uno riesce un po' a patteggiare la cosa la cosa migliore sarebbe sempre cercare di evitarli questo è poco ma sicuro però che consigli ci può dare dalle banche non ci si difende oppure c'è margine visto che appunto ha il suo pane credo che comunque i tribunali abbiano dato un grande aiuto in questi ultimi anni nel dirimere le controversie di questo genere le controversie bancarie naturalmente i tribunali italiani hanno come dire voluto propri orientamenti anche quindi non sempre si trova un orientamento uniforme che va dal Piemonte fino alla Sicilia c'è non per niente per esempio c'è una spaccatura anche nella stessa come dire valutazione dell'usura diversi sono i metodi che vengono applicati per il calcolo dell'usura in sede giudiziaria per cui alcuni tribunali ritengono più di attenersi alle istruzioni della Banca d'Italia in altri casi invece ci si attiene alla formula di matematica finanziaria della legge 108 del 96 che è diciamo così si cerca di valutare caso per caso caso per caso e ovviamente ogni tribunale ha i suoi orientamenti però c'è margine per essere per avere ragione nei casi dobbiamo sempre avere fiducia che ci sia naturalmente un aiuto grande che proviene appunto dal tribunale si può anche la prima città a rate di mutui piuttosto che mancati pagamenti di rate dei fidi si può fare appello magari ad una dilazione ad una moratoria ad una deroga questo va valutato il cliente lo deve valutare caso per caso certo che se si riesce a diventare magari un contenzioso quindi cercando di rimettere a posto una propria situazione debitoria anche per esempio nel caso di arretrati di mutuo chiedendo una moratoria alla banca ovviamente ha messo in un concesso che il cliente abbia disponibilità di chiudere il proprio progresso debito però insomma ci sono effettivamente c'è margine ci sono anche degli strumenti che si possono comunque attivare anticipatamente prima di arrivare al peggio quindi appunto leggere bene le carte fidarsi di un consulente affidabile e poi appunto essere sempre molto solerti nel leggere le comunicazioni che arrivano dalla banca a porsi sempre delle domande in modo da poter gestire il proprio rapporto con la banca nella maniera più trasparente possibile certo io ringrazio l'avvocato Serena Pomaro ma adesso diamo la parola all'avvocato Giorgio Destro perché ci sono anche dei risvolti penali perché quando poi si entra in contenzioso contenzioso anche di un certo peso abbiamo dei risvolti penali eccoci qui di nuovo in studio con noi l'avvocato Giorgio Destro avvocato penalista si diceva prima con la sua collega quali sono le problematiche che ancora sussistono nelle relazioni banche clienti e sussisteranno sempre dato che si tratta della sottoscrizione di un contratto tra parti però ci sono dei risvolti penali quando appunto prima si parlava di usura di anatocismo quando si incappa in una situazione di rilevanza penale e queste situazioni di rilevanza penale sono sempre a sfavore del cliente cioè la banca che in qualche modo si comporta non lecitamente o c'è anche una situazione rovesciata cioè le chiedo questa è una mia provocazione ha mai difeso una banca no non ha mai difeso una banca ma credo che non sia poi importante per risolvere la sua domanda quando c'è l'usura l'usura è un reatto l'abbiamo sentito prima se la banca applica interessi usurari commette un reato se commette un reato si può denunciarla si può fare una denuncia querela nei confronti del responsabile numero uno diciamo della banca che poi in realtà lui conosce relativamente quello che fanno i suoi funzionari ma tuttavia è pur sempre responsabile più che il direttore e il presidente del consiglio di amministrazione ma come si fa prima sentivamo con l'avvocato Pomaro che insomma non è facile definire il tasso di usura in quanto varia a seconda delle situazioni come fate a stabilire il contratto in cui invece siamo proprio in un ambito di reato beh allora abbiamo sentito che diciamo ogni tre mesi il ministero emette da quelle che sono le indicazioni dei tassi massimi applicabili se si superano questi tassi vi è usura quindi diciamo è anche facile in un certo senso e chiaramente mese per mese interessi per interessi va fatta una analisi che non è di competenza dell'avvocato perché presuppone una specializzazione che è compito tipico del condottore commercialista il commercialista che oggigiorno ci sono anche hanno a disposizione dei programmi inseriscono conteggio per conteggio e alla fine il computer a dire hai sforato si è andato oltre i limiti vi è l'usura questa relazione questa perizia che è fondamentale nell'ambito del processo penale perché depositare una denuncia querela nei confronti della banca sostenendo che vi è usura ma non dimostrandolo è inutile e verrebbe archiviata in 24 ore è necessario quindi allegare un elaborato che deve essere fatto con la giusta competenza e non sono neanche tanti commercialisti in grado di farlo elaborato che verrà poi esaminato dal pubblico ministero dal procuratore della Repubblica o dai suoi sostituti il quale se lo ritiene attendibile si va avanti col procedimento penale se non lo ritiene attendibile dispone richiede al giudice per l'indagine per i binari che venga disposta all'archiviazione il sospetto come nasce che mi stiano applicando un tasso usurario ma nei grandi numeri è chiaro che il privato che ha un conto corrente con piccolo fido che tra volte va da dentro tra volte va fuori lo sforamento è così minimo che se anche ci fosse l'usura non vale la pena né di andare dall'avvocato né dal commercialista chiaramente le situazioni nelle quali si ravvigia l'usura che può dar luogo a tutta una serie di iniziative che poi vedremo è tipica dell'imprenditore di chi gode di fidi di una certa levatura e quindi nei grossi numeri è molto facile che venga ravvisata individuata se vi è una lesione tale da far e giustificare soprattutto un'iniziativa sotto profilo penale prego prego l'imprenditore può scegliere la strada civile come la strada penale o può fare tutte e due contemporaneamente perché dovrebbe scegliere entrambe o l'una o l'altra per i risultati che può ottenere immaginiamo che l'imprenditore ha chiesto un fido nel tempo questo fido si è ampliato sempre di più ma non è in grado di rientrare come la banca gli chiede conseguentemente la banca cosa fa inizia un'azione esecutiva quasi sempre immobiliare questo cioè pignora i beni pignora i beni immobili e tutto quello che ha di immobili facciamo così per capire e questo è l'esempio che volevo fare ora cosa succede se si fa la denuncia quale è la penale scatta a favore del cliente una normativa che ormai è anche vecchia di 19 anni a dire vero ma ultimamente è molto esaminata oggetto di controversie giudiziari o altro è una legge del 23 febbraio del 99 numero 44 che a suo tempo era nata in realtà il titolo della legge è disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estortive e dell'usura in realtà era nata per le richieste estortive e problemi di meridione o altro ma avendo inserito anche l'usura fa a caso nostro nel senso che è possibile in base a questa normativa così come modificata poi nel tre anni dopo è possibile che il PM il procuratore della Repubblica ravvisando a seguito della denuncia querela che è fondata o vi sono elementi tali da ritenere fondata la denuncia può sospendere l'azione esecutiva immobiliare e questo è fondamentale la posso spendere per 300 giorni tempo entro il quale il legislatore a suo tempo aveva ritenuto che fosse possibile un componimento soprattutto l'accertamento anche praticamente se io se ho capito bene scusi se poi traduco ma perché credo che molte persone a casa come me magari fatichino a interpretare la specifica con cui lei sta esprimendo questa cosa se io ho un mutuo e non riesco a pagarlo per mille motivi la banca può pignorarmi la casa perché non pago il mutuo nel momento in cui però si evidenzia che i tassi di interesse su questo mutuo sono da usura io posso ottenere che non mi si pignori la casa più o meno per meglio dire può ottenere che venga sospesa l'esecuzione immobiliare per 300 giorni quindi un po' di respiro un po' di respiro e questo provvedimento è emesso dal procuratore della Repubblica che ordina alla giudice dell'esecuzione di tenere fermo tutto per 300 giorni e per il cliente che cosa significa questo? significa avere il tempo di poter dimostrare di permettere che l'azione penale vada a compimento e che quindi venga accertata definitivamente che vi è usura da una parte permette anche un componimento con la banca perché vi è da dire una cosa la sospensione di 300 giorni in realtà poi si ne guadagnano molti di più perché nel momento in cui viene sospesa l'esecuzione quando ripassati i 300 giorni deve riprendere da quel punto là ma conoscendo i tempi tecnici della giustizia i tempi previsti da una parte normativamente e dall'altra come normale situazione di congestione dei tribunali a quei 300 giorni iniziali se ne aggiungono più o meno altri 300 quindi c'è un certo respiro quindi nel momento in cui noi ci si trovi in difficoltà senza voler fare delle speculazioni scusi se faccio anche un po' la parte dell'avvocato del diavolo non voglio difendere le banche ma nel momento in cui ci si trovi in difficoltà senza voler appunto ripetisco fare delle speculazioni è sempre importante analizzare la propria situazione prima di farsi prendere dal panico perché magari ci sono margini se gli importi sono rilevanti se vi è il sospetto cioè l'amico che guarda i conti l'amico ragioniere che guarda i conti dice ma mi pare che qua siano un po' esagerati gli interessi vale la pena di andare dall'avvocato il quale incaricherà il perito contabile che faccia una verifica accurata sui conteggi se i conteggi si rivelano quando vi è usura pazienza ma sono casi isolati qual è l'andare ecco ci può fare esattamente ci fa una così una ci delinea un osservatorio di questi casi e perché sono in aumento perché magari uno dice sono in aumento le difficoltà che la crisi economica non è che si è risolta e la banca invece che andare incontro al proprio cliente tende a essere necessariamente più vessatoria perché anche lei ha bisogno di rientrare di soldi che non girano in maniera fluida e è conseguenza di cosa è sempre esistita questa situazione ecco un'analisi socio-economica la legge del 99 a 18-19 anni da pochi anni viene invocata perché perché merito ad esempio anche di questa stessa trasmissione che chi la segue e chi la sente e chi magari è soggetto a un'esecuzione immobiliare perché non ha pagato un po' di rate di muto dice aspetta che vado a vedere che poi non sia il caso che ho ragione invece che torto che il mio debito sia molto inferiore rispetto alla pretesa della banca e quindi cioè voglio dire vi è una coscienza una maggiore basta entrare anche su internet ormai tutti lo sanno usare però molte banche ti dicono oppure abbiamo un po' la sensazione che tu possano sospendere per un anno il mutuo sono tutte dicerie cioè no non sono dicerie vi sono ipotesi nelle quali normativamente previste però oppure si può chiedere anche la banca di sospensione a volta sua se concede questa sospensione oppure magari una sospensione con poi una ripartenza con un aggravio del tasso interesse una ricontrattazione magari della relazione sono situazioni previste normativamente però non è il nostro caso no 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 certo ma cercavo di indagare chiede alla banca e invece questi casi quali sono i casi quando vi è l'usura vi è l'usura vi è l'accertamento dell'usura allora si denuncia la banca e quella esecuzione che è in corso può essere sospesa per quel tempo che dicevo sono i 300 giorni e ci sono tanti casi direi di sì perché basta anche leggere i quotidiani locali anche recentemente un albergo di Abano ha vinto una causa contro la banca è stata accertata un'usura di 280 mila euro non pochi e la banca visto che è un reato quello dell'usura in cosa incappa e non è che possono mettere le manette alla banca no nel diritto penale la responsabilità è personale non è di una società risponderà il presidente del consiglio di amministrazione il quale è lui che deve vigilare affinché non siano applicati interessi usurari ma questa applicazione di interessi usurari è determinata da superficialità leggerezza da parte di chi l'impone oppure c'è anche un tentativo di essere borderline e rientrare un po' quella questione che abbiamo affrontato dell'impiegato che è costretto quasi a fare raccolta più che finanza per quella che è la mia esperienza sia personale sia acquisita dall'esame di lavoro di altri colleghi o da quanto si prende la stampa talvolta le banche sanno benissimo che gli interessi applicati sono usurari lo sanno benissimo altre volte sono errori del computer perché lei sa che poi sono i computer che stabiliscono esattamente gli interessi da applicare adesso non voglio parlare male delle banche che sono banche serissime ci sono altre però che falliscono anche chissà come mai stiamo cercando appunto di trovare c'è chi magari non denuncia per timore che ci siano troppe spese legali che non si arrivi a niente ma più che altro chi non denuncia è perché pensa che se denuncia una banca e quindi deve chiudere i rapporti con quella banca e vada un'altra la seconda per diciamo per ritorsione per una situazione di solidarietà tra banche non lo voglia come cliente ma invece non è vero quindi c'è un libero mercato libere situazioni ogni caso a sé stante ogni caso a sé stante direi non ho più tempo a disposizione ringrazio l'avvocato Giorgio Destro ringrazio voi questa mattina per averci seguito torniamo domani mattina altri ospiti altri argomenti grazie buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti